Ciao, buonasera, benvenuti alla prima di Discoffee. Che te ne sembra di questa serata? Bellissima. Qual è il tuo nome? Carmen. Ciao Carmen, ti stai divertendo? Sì, sì, tantissimo. Pure perché c'è bella gente, siete un bel gruppo. Questo ci fa molto piacere. Senti, hai esaggiato questo nostro caffè? Sì, sì, buonissimo. Bene, buono. Senti, l'altra domanda che ti faccio. Cosa hai visto di interessante in quei dieci minuti che ti hanno parlato di questo nuovo progetto? Interessante, molto interessante da proporre perché alla fine penso che ne vale la pena. Senti, ma tu che lavoro fai? Io attualmente devo aprire un'attività e ho pensato di fare l'angolo del benessere. Brava, 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 con queste bevande. Qual è che hai assaggiato tu? Caffè nero. Caffè nero. Ma so che hai assaggiato anche, già sei consumatrice di questi prodotti. Sì, sì, già sono consumatrice vostra. Quindi sei una cliente. Cioccolata buonissima, stupenda. La fine del mondo. Che bello. E poi ci manteniamo anche in linea con questa. Già sai. È la fine. Che consiglio puoi dare a chi ti sta ascoltando? Provatelo perché è una cosa che ne vale la pena da provare. Solo provare? No, so già comprarlo. No, 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 consigliarlo. Consigliarlo anche a altre persone. Consigliarlo anche a altre persone.